Osservate! Questa è la mangia-pulta. Forte! La utilizzo per lanciare a Zeke il suo spuntino preferito. Ovvero i marshmallow! L'hai arrostito per benino. Dai, tienti pronto, Zeke. Sta per arrivarne un altro. Oh, che strano. Come mai la mia mangia-pulta non funziona? Ah, ecco dov'è il problema. C'è un rametto incastrato negli ingranaggi. Ora lo tolgo così. La mangia-pulta può lanciare... ...me al posto del marshmallow! Cic, cic, cic! Oh, no, il re! Cic, cic, cic! Aiuto! Oh, no! Ha la corona che gli copre gli occhi. E non vede dove sta andando. Che guaio! Come faccio a tornare a casa se non riesco più a vedere niente? Aiuto! Povero re. Noi dobbiamo salvarlo. Ma in che modo? So io in che modo. diventeremo i più coraggiosi, invincibili e nobili eroi di tutto il paese. Saremo cavalieri dall'armatura scintillante. Io sarò Sir Blaze! E io sarò... Sir Ray Jay! Ehi, guardate, amici. Un ponte-elevatoio. Oh, no! Si sta chiudendo. Wow! Adesso non possiamo più oltrepassare il fiume. Cic, cic, cic! Un momento. Zic sa cosa fare. Se mettiamo le chiavi nelle serrature, sbloccheremo il ponte e potremo attraversarlo. Zic, cic! È una buona idea, ma non sarà facile procurarci le chiavi. Guardate. Per ogni chiave c'è un barbaro bigorne a fare da guardia. Zic, cic! Niente paura, Zic. Io so come prendere le chiavi. Useremo una calamita. Sì! Le chiavi sono fatte di metallo. E ricorda che il metallo ha dentro di sé tante piccole particelle. Quando si usa una calamita, il suo campo magnetico attira alcune di quelle particelle. Quindi, se la calamita è abbastanza potente, possiamo portare via le chiavi di metallo dai bigorne. Ah! E vai! Mi sono trasformato in una mega macchina! Elettro-calamita! Sì! E adesso pensiamo a prendere le chiavi. Elettro-calamita! Magnetizza! Ahah! Evviva! Ora aiutami a puntare l'elettro-calamita in modo da prendere la prima chiave. Dobbiamo puntare a sinistra o a destra? A sinistra! Sì! La prima chiave è nostra! Guarda, Zik! Il ponte comincia a scendere. Adesso dobbiamo prendere la seconda chiave da quel bigorne lassù. Elettro-calamita magnetizza! Per avere questa chiave dobbiamo puntare più in alto o più in basso? più in alto! Zik, zik, zik! Zik, zik, zik! E come dici tu, zik, ancora un'ultima chiave e il ponte si abbasserà completamente! Elettro-calamita! Magnetizza! Per prendere l'ultima chiave dobbiamo puntare a sinistra oppure a destra? A destra! Ci siamo riusciti! Evviva! Abbiamo abbassato il ponte! Adesso più nulla potrà impedirci di salvare il re! Urra! Sono libero! Se soltanto potessi vedere chi mi ha salvato! Zik! 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 Oh, lasciatelo dire! Sei il miglior drago che un re possa mai desiderare! Zik, zik, zik! Oh, e naturalmente un ringraziamento speciale a voi, Blaze e AJ! Io vi ringrazio nominandovi i cavalieri più coraggiosi di tutto il paese! Zik, zik, zik! Ciao! Ciao! Ciao!